Oh no, 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 non può proprio Siamo a 25 minuti, magari sipurpose Stretta anche per gli ingressi in Italia dall'estero dal 10 dicembre al 15 gennaio Quede fine in Italia da uno dei 27 paesi di defizione europea O da tornare in Italia, dal capitalista e affiannragendo Depressione, disturbo ossessivo compulsivo dipendenze. La mente umana, una macchina tanto straordinaria quanto complessa. Semplici gesti come parlare, camminare, ascoltare richiedono milioni di connessioni cerebrali. Ma cosa accade quando lo sottoponiamo ad uno sforzo eccessivo o costante? La reazione più comune a questi problemi è spesso ignorarli. Pensare che passi, che sia tutto normale, che un aiuto non serva, di potercela fare da soli. Questo fino a quando tutta la nostra vita inizia a frantumarsi. Ed è proprio in questi momenti che, presi dalla disperazione, si rischia di mettere la propria vita nelle mani sbagliate. La cura reale per tutto questo non è né un farmaco né una stregoneria. È un team, un gruppo di professionisti che da anni, grazie alle tecniche più avanzate, ci accompagna lungo questo percorso. Fiducia, sorrisi, comprensione, professionalità, competenza. Non possiamo curare tutto, ma possiamo prenderci cura di tutti.